Siamo ormai alla vigilia della Pentecoste e guardiamo gli ultimi due doni dello Spirito Santo, la pietà e il timor di Dio. Allora la pietà innanzitutto, anche se suona un po' male nella nostro linguaggio, è il dono che ci mette in rapporto col Padre che è nei Cieli. Dunque è il dono che fa scoprire la nostra figliolanza, che fa scoprire il volto del Padre attraverso il Signore Gesù e che facendoci scoprire la figliolanza ci fa anche scoprire quanto siamo fratelli gli uni con gli altri. Lo dice il Signore Gesù, non chiamate nessuno Padre sulla terra, uno solo è il Padre che ne cedi, voi siete tutti fratelli. Dunque un dono estremamente importante, che si lega profondamente con quello del timor di Dio, che non è la paura di Dio, ma il timore di offendere colui che si ama e colui che ci ama. D'altra parte se noi vogliamo bene a una persona, beh ci guardiamo ben bene dal dover anche compiere un segno, qualche cosa che inconsapevolmente la possa offendere. Ecco questo deve avvenire anche nei confronti di Dio. E questo è importante perché se da una parte ci scopriamo figli, dunque fratelli, in questo dono ci scopriamo realmente partecipi di un'intimità particolare. Potremmo dire che come il pudore, ecco, preserva il nostro atteggiarci fisicamente da manifestazioni che sarebbero sconvenienti, ecco così il dono del timore di Dio è un po' il pudore dell'anima, preserva l'anima da quel modo di agire, di parlare, di essere che è sconveniente, che rompe il rapporto con Dio, che ne rifiuta l'amore e invece lo introduce in quella paternità che realmente ricolma i nostri cuori, sia la pienezza di questo dono.